Io mi porto a casa, direi una felicità autentica, che altro non è che il titolo di questo seminario perché patti pur cazziandomi molto, mi fa raggiungere delle vette altissime come il lavoro che abbiamo fatto con l'ombra, che anche per me è stato importante come per altre persone lì ho avuto proprio la percezione che l'ombra offuscava quello che è Eliana, autentica ritrovare me stessa, la versione più bella di me è stato un grande lavoro lavorare con patti è inutile dirlo, è sempre una magia io mi trovo veramente molto bene, credo che sia un valore aggiunto alla vita di tutti noi cioè uno si deve permettere di lavorare con lei perché è tanta roba vorrei fare un ringraziamento anche a Virginio perché la sua giocosità, il suo modo di porsi verso di noi ha alleggerito delle situazioni, è stato quella ciliegina sulla torta che ci vuole sempre grazie